Ciao a tutti direttamente dall'hotel Miramonti ci troviamo qui a al quinto Winter Camp Pietra Cammela Prati di Divo ci troviamo qui con la signora? Sonia? Sonia! Poi abbiamo il disturbatore presenzialista tv Niki Giustino e me il salutatore cosa vogliamo dire? Che adesso stiamo partendo per andare a fare il dock tracking ecco qui con guido la guida con guido la guida e adesso noi ci giriamo piano piano giriamoci e abbiamo qui il bellissimo Monte Gran Sato ho trovato qualcuno che è più grosso che me ecco qua e salutiamo tutti quanti ciao ricordiamo il sito dell'hotel Miramonti ecco qua venite tutti e vi aspettiamo e c'è anche Niki vieni Niki eccolo è ritornato ciao a volte ritornano ciao 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 ciao